Buongiorno, oggi è il 3 giugno, la giornata mondiale della bicicletta. Per questo dedicheremo la nostra videopillola di curiosità del Museo Gemma alla bicicletta. Eccoci all'interno del Museo Universitario Gemma, purtroppo non ancora aperto ai visitatori. Prendiamo quindi spunto dalla giornata mondiale della bicicletta per parlare di un materiale che caratterizza i telai delle moderne biciclette, la fibra di carbonio. Noi parleremo del carbonio. Il carbonio, l'elemento chimico che indichiamo con la lettera C, è infatti il principale componente delle fibre di carbonio, di cui si compongono i telai appunto delle biciclette di ultima generazione, ma anche il componente di alcuni minerali ben noti, dal diamante alla grafite. La grafite è il minerale che compone le mine delle matite, ad esempio. La grafite è questo minerale dal colore grigio argentato, relativamente tenero, composto da atomi di carbonio organizzati in lamine sovrapposte e pensate un po', dalla grafite è stato scoperto il grafene, questo materiale straordinario che ha meritato, la cui scoperta ha meritato il premio Nobel nel 2010. Dal Museo Universitario Gemma è tutto, arrivederci alla prossima videopillola.